PODENDA VAI RAGAZI QUA AXLODGE OH MY GOD Oggi non sono da sole sono in compagnia di un ospite fenomenale Ah devo iniziare Salve a tutti ragazzi siamo pronti per una stagione cooperativa insieme a Axel Perché è stata infatti richiestissima addirittura al video in cui avevamo appunto detto che magari facevamo una cosa simile Raggiunti 12.000 mi piace che era il ritorno del double or nothing quindi ha avuto un esito strepitoso direi io Guarda ragazzi sono contentissimo allora non possiamo fare la figuraccia dobbiamo fare almeno tre gol a tutti Esattamente solo l'unica cosa adesso dovete darci due minuti perché dobbiamo decidere la squadra Puntiamo sull'ignoranza o andiamo a fare quelle abbastanza buone Mike? Ma io direi iniziamo con una buona poi magari ragazzi voi nei commenti ci suggerite qualche squadretta da utilizzare così Che preferite esatto quelle magari un po' più forti quali Chelsea Manchester City PSG Oppure si va d'ignoranza tipo a Grinkton con una stella ecco Ecco o se no la Colombia Ah la Colombia vuoi fare la Colombia? Quindi ragazzi abbiamo scelto la squadra utilizzeremo il belgio divisa rossa E ragazzi dopo anni e anni siamo giunti a decidere la squadra abbiamo deciso di utilizzare il belgio Un po' ignorante del tipo che utilizziamo Hazard che è un esterno come punta Però sinceramente a me sfira così spero che anche a Mike vada bene Sì sì ma dai tanto non è importante la squadra ragazzi è chi gioca quindi adesso scuola in minuti Perché poi cosa particolare è che non abbiamo mai giocato insieme quindi questa è proprio la prima volta Prima volta Vabbè ma guarda non è un problema tanto è vero ragazzi siamo così spavaldi che giochiamo con Van den Boer e De Boeck sugli esterni Praticamente prendiamo in giro il nostro avversario In realtà ragazzi la nostra intenzione è quella di far quittare il nostro avversario quindi gli faremo più gol possibile Passaggini 1,2 così e via Vai Belgio Porto Allora io sono il rosso credo Sì io sono il rosso E io sono il blu Eh sì lo so ma hanno ucciso No attenzione Svarione non lo far uscire Dai portiere Sì è stata mia colpa lo fatto uscire io No ragazzi Cioè ci hanno fatto un tiro a un gol Oddio Vabbè dai ci rifacciamo Sì ci rifacciamo Guarda qui Per far rimanere l'avversario per sembrare di essere scarsi Ma che cosa fanno? Fanno passati dalla madonna Infatti questi qui sono fenomeni Ho beccato i fenomeni in prima divisione Vai sei andato Bella c'è 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 Dai le Corri cavallo Corri Sì è Dan No Ma non è giusto Addirittura la tenuta Che piano calma Asar da è andato Asar da è andato Bellissima Bellissima 1 a 1 Mamma mia La sinergia Guarda qui Tra l'altro io dico anche fuori gioco Ma va bene Va bene È questione di prospettiva giusto Esatto È prospettiva ragazzi No no è tornato No non è operato Braccio teso proprio 1 2 Eh non ce l'ho fatta Era fallo Albero Era fallo Non ce l'ho poco fatta scusa Lo mangia a colazione Preparami un panino Che me lo sto mangiando Vai Ah ho errato Stra fuori gioco Però vabbè Vabbè però ragazzi Siamo vivi Questi qui hanno fatto Hanno fatto un tiro sostanzialmente L'ha ancora Guardalo Lo vede Dai Ma donna mia Mamma mia ragazzi Siamo troppo Troppo altruisti Esatto Fettevamo entrambi a tirare Nessuno lo fa Fair play dai Vabbè Questo è perché vogliamo Ancora Da una possibilità Al nostro avversario No No Non lo fa uscire Non lo fa uscire Non lo fa uscire Non lo fa uscire Aiuto la gioia ragazzi Troppo pro Ce l'abbiamo fatta E ce l'ha Fai la sponda Oddio 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 Fuori gioco Mi sa fuori gioco No ragazzi Ci stiamo riprendendo E champagne E questo qui E caccio il champagne Di brutto Ma mia è il Brasile Ma te va Va alla velocità normale O è un po' più lento No ma in generale Altimettima è molto più veloce Eh infatti io Si vede che sta ancora settato Qua altimettima C'è Oddio Vabbè vabbè non è fallo Non è fallo No albero Porca cacca Ma non l'ha toccato Ok Non preoccupare Non c'è un problema Guarda che controviete magici Gli facciamo Sì però Ebbè non lo trovai Fischia a un fallo Prima o poi Nella vita No Stava Ah bravo Oh ci hanno sfondato In realtà Vabbè ma tu non la metti E siamo pronti La tagliamo Siamo pronti Attenzione Arbitro Albero Fino fuori il cartellino L'ha votato L'ha votato Quaresma Altrivella Attenzione Oddio 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 No ho sbagliato Dove sei? Ehi No fallo Arbitro Adesso facciamo uno schema Stiro io De Bruyne Oh Ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Li stanno macinando Comunque Quando c'è la palla in difesa Prendi l'attaccante Che te la lancio lunga così Vai Allora la stessa cosa favo io Sì io l'avevo passata Arbitro Fellaini Oggi è andato Siamo andato E' andato E' andato E' andato E' andato No Non è Maledetto De Bruyne Niente Dici così Ci stanno un po' arando Ma fa niente Mi è uscito fuori dal campo C'ho paura C'ho paura Ragazzi Questi in attacco Sono pericolosissimi Bravo Lukaku No Ma perché ha fatto quel movimento C'era una seconda parte d'azione Che è troppo forte Tira Che gol Eccolo Oh mio dio Che gol ha fatto Che gol ha fatto Mike E' questo ragazzi Che abbiamo chiamato Cancio C'ha fatto Mamma mia Che gollascio Questo ragazzi Proprio deve salvare Sulla memory card Piccola nota Witzel si chiama Axel E vabbè E' vero Vedi Tutto torna Coincidenze Io non credo Sei andato Bella E' arrivato Cosa fa Vai Vai in mezzo Da solo Così Così De Bruyne Madonna Se l'hai auto lanciata Stai giocando da solo Bravo Ma infatti C'è qualche problema No Il buco centrale No Il buco centrale E l'abbiamo fregato Non sei uscito nel momento giusto Vai da solo Scegli l'attaccante Ah vai con Fellaini Con Fellaini Di ignoranza stratosferica Vai Triangolo Oddio Così tutti gli infalli Tutti dietro E l'ha finita Abbiamo vinto la prima Applausi Applausi Ma Caparnatra Secondo me si Se vuoi Ma si dai Grazie a chi �hi Sì 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 Sì